Ciao a tutti, sono Mauro Ferrari, sono responsabile del Dipartimento Art qui a Anacon Milan. Il mio team si occupa principalmente della produzione grafica dei nostri titoli e dell'allineamento della visione artistica sugli stessi. Il reparto art è strutturato in varie aree di competenza, ci sono responsabili che lavorano sugli environment, quindi sulle ambientazioni di gioco, altri che lavorano sui personaggi, una sottoarea che si occupa principalmente di concept art, quindi di revisualizzazione di quelli che saranno i nostri prodotti, responsabili della parte tecnica, responsabili della parte 2D e ci appoggiamo a una serie di fornitori e partner esterni che ci aiutano nei grossi volumi di produzione grafica. Ciascuno di questi responsabili ha alle proprie dipendenze un micro team di specialisti, aiutano sostanzialmente quelli che sono i responsabili delle varie aree a performare attivamente e a interfacciarsi efficacemente con l'engine e con gli altri reparti di produzione, quindi design, programmazione e quant'altro. Le problematiche e le sfide che il mio team si trova ad affrontare quotidianamente sono legate principalmente a due aspetti. Il primo è questa continua ricerca di un bilanciamento diciamo così tra la parte artistica e la parte tecnica perché nel fare videogiochi noi dobbiamo sempre convivere con del budget a disposizione, che sia budget monetario o budget relativo a memoria performance delle console su cui lavoriamo. Quindi il lavoro di uno sviluppatore, a me piace definirlo così, più che artist, un art developer è proprio quello di riuscire a trovare un compromesso in queste problematiche, cioè a bilanciare perfettamente l'effort artistico con le necessità tecnologiche. Un'altra problematica molto importante è quella del mantenimento di una visione artistica coesa che non deve essere mai abbandonata in nessuna area, quindi se il prodotto ha dei pillar definiti artistici, questi pillar devono rimanere trasversali ai personaggi, alle ambientazioni, all'animazione, alla grafica 2D, a tutti gli elementi che poi insieme lavorano per creare quella che è la visione di gioco sostanzialmente. Il lavoro come art developer è un lavoro estremamente creativo, che richiede molto impegno, ma appunto anche molta creatività e voglia di fare. È un lavoro stimolante, che richiede, dicevamo prima, un aggiornamento continuo, ma che può dare veramente grosse soddisfazioni, soprattutto lavorando di squadra, perché unendo pensieri, interessi, idee, creatività, nascono i prodotti più belli.